Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi vi do lezione dedicata all'analisi completa della novella di Verga Rosso Malpelo. Prima però ricordatevi di lasciare un mi piace qui sotto, di iscrivervi al canale e di seguirmi anche su Instagram. Sappiate che ho già dedicato un video a riassunto in 4 minuti di Rosso Malpelo, però se volete approfondire meglio la novella e prepararvi meglio vi consiglio di vedere questa video lezione. Come sappiamo, Rosso Malpelo è una novella che è stata scritta da Giovanni Verga nel 1878 ed è considerata una novella di svolta per il verismo. Questa novella è stata prima pubblicata su una rivista a puntate, Il Fanfulla, dopodiché fa parte, quindi è stata inserita, nella raccolta vita dei campi del 1880. Iniziamo ora la lettura e l'analisi della novella. Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi e aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riuscire un fior di birbone. Malpelo dunque si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Sin dal mondo antico, infatti, il colore rosso è associato al male. In particolare, durante il Medioevo, il rosso era il colore del tradimento, della menzogna, delle bugie. Capelli rossi? Una vecchia toga di seconda mano? Devi essere un Weasley? Tutti alla cava della rena rossa lo chiamavano Malpelo e persino sua madre, che si era quasi dimenticata il suo nome di battesimo. Infatti, chi è questo rosso Malpelo? Rosso Malpelo è un ragazzino dai capelli rossi e che per questo è considerato cattivo e malizioso. È un ragazzino sfruttato che vive in una famiglia molto povera e che viene sfruttato in una cava di rena rossa, quindi in una cava di sabbia rossa. Nell'Ottocento, infatti, questo materiale serviva per essere estratto e poi impastato per la calce e ottenere la malta. In questa novella noi notiamo subito un ragionamento da parte di Verga, che dice Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi ed era malizioso e cattivo. Verga, secondo voi, potrebbe mai fare un ragionamento di questo tipo, un uomo colto, studioso. No, eppure il narratore di questa novella lo fa, fa questo ragionamento pieno di pregiudizi. Infatti, il narratore non rispecchia Verga, è un narratore rozzo, è un narratore ignorante, è un narratore pieno di pregiudizi e di preconcetti. Il narratore pensa che Malpelo sia cattivo perché ha i capelli rossi. Questo procedimento si chiama regressione, ovvero tornare indietro, regredire. Quindi il narratore non rispecchia Verga, scrittore colto, studioso, ma rispecchia un uomo ignorante, rozzo, pieno di preconcetti. Non è più quindi quel narratore onnisciente, pensiamo dei romanzi alti come per esempio Manzoni, ma è un rozzo, uno zotico, pieno di pregiudizi. Malpelo, quando tornava a casa, veniva anche controllato dalla famiglia perché loro credevano che lui rubasse. Infatti la sorella controllava proprio le tasche di Malpelo, potremmo dire, e gli faceva una ricevuta a scapaccioni, ovvero lo picchiava. Perché? Perché per non sbagliare, dato che erano tutti convinti che lui rubasse, veniva picchiato. Come vedete anche questi ragionamenti, queste riflessioni, sono delle riflessioni di tipo molto basso, che non rispecchiano di certo il tipo di educazione che ha ricevuto Verga. Un altro tema che emerge in questa novella è il tema della diversità. Tutti schivavano Rosso Malpelo come un cane con la rogna. Dovete anche notare che nella novella ci sono molte similitudini legate proprio all'ambito degli animali e Rosso Malpelo subito viene identificato come un cane rognoso, quindi da evitare. Addirittura gli operai della cava lo accarezzano con i piedi. Cosa significa questo? Lo picchiano quando se lo trovano a tiro, cioè quando se lo trovano vicino. Rosso Malpelo era davvero un brutto ceffo, torvo, ringhioso e selvatico. Anche qui trovate il meccanismo, la tecnica della regressione, quindi un pensiero che non può essere quello di un narratore che rispecchia Verga, ma è un pensiero di uno zotico che dice Rosso Malpelo aveva i capelli rossi e dato che aveva i capelli rossi era cattivo, un brutto ceffo, torvo, ringhioso, selvatico, cioè primitivo, che non riesce quindi a trattenere i suoi istinti. Al mezzogiorno, mentre tutti gli altri operai della cava si mangiavano in crocchio la loro minestra e facevano un po' di ricreazione, egli andava a rincattucciarsi col suo corbello tra le gambe. quindi Malpelo andava a troversi un cantuccio, un angolino e stava con il suo cestino con dentro del pane, del pane bigio, cioè del pane senza sale. Quindi Malpelo è proprio un isolato, un emarginato e mentre mangia in un angolino gli operai della cava lo prendono in giro, lo motteggiano, quindi lo scherniscono e gli tirano addirittura i sassi. Quindi Malpelo è un diverso, viene emarginato al lavoro, maltrattato dagli operai, dai colleghi e anche maltrattato a casa dalla famiglia. Ehi ci ingrassava fra i calci e si lasciava caricare meglio dell'asino grigio. Rosso Malpelo infatti cresce a pedate e a calci e le prende talmente bene che non protesta nemmeno, ancora meglio del povero asino grigio di cui vedrete che farà veramente una brutta fine. Rosso Malpelo quindi è un debole che viene schiacciato dai più forti in una società piena di violenza. Non di meno, Rosso Malpelo era anche conosciutissimo in tutta Catania come la bettonica. Che cos'è la bettonica? La bettonica è una pianta, una pianta che all'epoca era molto conosciuta. È un po' come dire che Malpelo fosse un ragazzaccio, lo sapevano anche i muri. Per dire no? Un modo di dire che esprime la notorietà, cioè la fama di Malpelo. Malpelo lo conoscono tutti perché un emorginato e un debole viene maltrattato da tutto e da tutti, dalla vita e dagli operai e dalla sua famiglia. Insomma, alla cava lo tenevano per carità e perché Mastro Miscio, suo padre, era morto in quella stessa cava. Infatti, il padre di Rosso Malpelo muore proprio nella cava di Rena, schiacciato da un pilastro che reggeva un cunicolo ingrottato della cava. Dovete sapere che quella di Mastro Miscio è una morte bianca, una morte sul lavoro, una di quelle morti che ancora oggi capitano spesso. In questa parte della novella viene raccontata l'impresa di Mastro Miscio che era trattato di fatto come il minchione della cava. Infatti, si era lasciato gabbar, cioè si era lasciato ingannare e si era messo a fare un lavoro accottimo, quindi non pagato al mese, ma pagato sulla base della sua prestazione di fatto, legato a un pilastro della cava, un pilastro molto pericoloso. Lui lo chiamavano Mastro Miscio bestia perché era l'asino da basto di tutta la cava, cioè faceva tutti i lavori più pesanti. Era un povero diavolaccio. Notate bene anche la scelta linguistica, cioè le espressioni linguistiche che utilizza il narratore, narratore che abbiamo detto non rispecchia verga, è un narratore rozzo, primitivo, che assume il punto di vista degli operai della cava di fatto e dello stesso livello sociale. Quando anche Mastro Miscio veniva preso in giro, veniva schernito, bene, Malpelo faceva un visaccio perché anche quelle soperchierie, cioè quei soprusi, cadevano sulle sue spalle. Gli altri operai gli dicevano, va là che tu non ci morrai nel letto come tuo padre. Invece nemmeno il padre di Malpelo, come abbiamo detto, morirà nel suo letto. Perché? Perché purtroppo fa la morte del sorcio. Cosa vuol dire fare la morte del sorcio? Vuol dire che viene schiacciato nel cunicolo, proprio a causa di quel pilastro che reggeva il cunicolo e che lui toglie. Infatti, tutto a un tratto, mentre Mastro Miscio lavora, Malpelo sente PUNF, quindi un'onomatopea. Si volta a riporre i ferri nel corbello, quindi nel cestino, e sente un tonfo sordo, come fa la rena traditora, allorché fa pancia e si sventra, tutta in una volta. E il lume si spense. La luce si spegne. Che cosa è successo? È morto Mastro Miscio. Allora Malpelo come reagisce? Non risponde nulla. Non piange nemmeno. Scava con le unghie colà nell'arena, dentro la buca. Nessuno quindi si accorge di lui e quando si accostano alla luce vedono che ha un viso stravolto e gli occhiacci vitrei. Gelidi, freddi, la schiuma addirittura dalla bocca. Gli si sono strappate le unghie a furia di scavare nell'arena e gli pendono dalle mani tutte in sangue. Eppure notiamo come viene descritta questa scena. Di fatto, qui il narratore ci descrive una reazione plausibile, autentica. Cioè la reazione di Malpelo che è stravolto da quello che gli è accaduto, perché ha assistito alla morte del padre. Eppure, il punto di vista qui assunto, ci fa sembrare questa scena strana. Infatti va avanti il narratore. Poi, quando vollero toglierlo di là, fu un affarserio, gli operai, no? Non potendo più graffiare, mordeva come un cane arrabbiato. E dovete rafferrarlo per i capelli, per tirarlo via a viva forza. Quindi quel comportamento di Malpelo, un comportamento plausibile, autentico, pieno di sentimento verso il padre, viene visto come qualcosa di strano, di incomprensibile. Questo è un artificio, l'artificio dello straniamento. Perché? Perché il comportamento di Malpelo è strano al lettore. La sua reazione di dolore, plausibile, normale, autentica, è vista come strana, incomprensibile. E questa è proprio una scelta del narratore, una scelta stilistica. Malpelo deve comunque tornare a lavorare. Spesso, mentre scava si ferma bruscamente, con la zappa in aria, il viso torvo, gli occhi stralunati. E sembra addirittura che ascolti un diavolo interiore. Chiaramente, anche qui abbiamo sempre un effetto di straniamento. Malpelo è normale che reagisca così, appena perso il papà è normale che sia perso, che sia turbato. Eppure il narratore descrive questo comportamento come se fosse strano. Malpelo se la prende anche con l'asino. E quella povera bestia viene picchiata senza pietà col manico della zappa, mentre lui borbotta, così creperà più presto. Dopo la morte del babbo, pareva che gli fosse entrato il diavolo in corpo e lavorava al pari di quei bufali feroci che si tengono con l'anello di ferro al naso. Quindi un altro paragone con la sfera degli animali. E un altro esempio di straniamento. Malpelo, tuttavia, diventa amico di un ragazzino, Ranocchio, un ragazzino claudicante, zoppo. Per un raffinamento di malignità sembrava aver preso a proteggere un povero ragazzetto venuto a lavorare da poco tempo nella cava. Anche qui, straniamento. Questo ragazzetto, Ranocchio, era claudicante perché era caduto da un ponte. Il poveretto comunque si cercava un po' di arrabbattarsi, quindi di guadagnarsi qualche cosa nella cava. Malpelo, però, gliene dava anche del suo per prendersi il gusto, per tiranneggiarlo, dicevano. Quindi veniva picchiato dallo stesso Malpelo. Eppure i due saranno amici, coltiveranno un'amicizia di fatto autentica. Anche perché Malpelo non picchia Ranocchio per sottometterlo, ma per insegnargli, per trasmettergli alcuni insegnamenti. Gli insegnamenti della lotta per la vita, cioè del fatto che noi, per vivere, siamo in una guerra continua. E quindi dobbiamo per forza, secondo gli insegnamenti di Malpelo, ma anche quelli dei gius naturalisti, dobbiamo per forza combattere. E quindi lo batteva senza motivo e senza misericordia. E se Ranocchio non si difendeva, lo picchiava più forte, con maggior accanimento. Perché? Perché gli diceva, se non ti senti l'animo di difenderti da me, che non ti voglio male, come farai quando allora ti picchieranno quelli che di male te ne vogliono veramente? Cioè Malpelo cosa gli dice? Gli dice, io adesso ti picchio per educarti, per educarti alla vita, perché un giorno verrai picchiato davvero da qualcuno che vuole farti male sul serio. E come reagirai allora? L'asino va picchiato perché non può picchiare lui. E se egli potesse picchiare, ci pesterebbe sotto i piedi e ci strapperebbe la carne a morsi. Se ti accade di dare delle botte, cerca di darle più forte che puoi, così gli altri poi avranno paura di te e non ti picchieranno più. Questa legge, come si chiama? La legge del più forte. Bisogna cercare, secondo Malpelo, di non mostrarsi deboli. Malpelo quindi cerca di dare questi insegnamenti a Ranocchio perché di fatto è il suo unico amico e l'unico affetto che ha perché la sua famiglia non si occupa di lui, è sempre da questa o da quella vicina e lui sta sempre brutto, cencioso, lercio, non lo guardano neanche a casa. Tuttavia un giorno, al lavoro, Malpelo trova una scarpa, una scarpa di suo padre che era stato ucciso da quel pilastro e quando trova questa scarpa chiaramente è colto proprio dalla paura perché ha paura di vedere comparire anche il piede del padre perché il corpo non era stato ritrovato ancora e quindi non vuole più dare nessun colpo di zappa. Infatti ci penseranno bene gli operai della cava a dargli la zappa in testa. Andrà quindi a lavorare in un altro punto della galleria ma dopo due o tre giorni troveranno il corpo di Mastro Mishu. Addirittura dalle mani di Mastro Mishu si vede proprio il tentativo di lottare e quindi di uscire da questa sabbia che lo aveva travolto. Lo notano anche gli operai ma non dicono niente e il narratore infatti ci dice non dissero nulla ragazzo per la ragione che lo sapevano maligno e vendicativo. Quindi ancora una volta il narratore assume il punto di vista basso e ignorante quindi troviamo sempre la regressione. La madre di Malpelo prenderà i vestiti di Mastro Mishu e li adatterà al figlio che per la prima volta avrà dei vestiti nuovi e lui cosa fa? Se li liscia sulle gambe e gli sembra quasi che siano dolci e lisci come le mani di suo papà che gli ha carezzato i capelli. Poi tiene addirittura le scarpe appese al chiodo perché sembrano quasi le pantofole del papa cioè sembrano un oggetto molto prezioso no? E quindi la domenica le lustra, se le prova, le mette per terra, le guarda no? Con i gomiti sulle ginocchia quindi tratta tutti questi oggetti del padre con affetto. Ma anche qui per come ci presenta il narratore questa scena ci sembra strano. Sembra che Malpelo faccia delle cose anomale, strane eppure sono normali. Anche qui c'è sempre il fenomeno dello straniamento tant'è che il narratore ci dice possedeva delle idee strane Malpelo. In quel periodo muore anche l'asino grigio di vecchiaia ma anche di stenti quindi di fatiche. E cosa fa Malpelo? Col suo amico va a vedere l'asino nel burrone dove è stato lanciato. Si trova in fondo a un burrone e Ranocchio non vuole andarci con Malpelo ma Malpelo gli dice che è importante guardare le cose in faccia sia quelle belle che quelle brutte. Dagli a poco Ranocchio inizia a stare male. Inizia a stare male, inizia a deperire. Tant'è che alla sera devono addirittura per portarlo fuori dalla cava metterlo sull'asino. Un operaio commenterà dicendo che quel ragazzo non avrebbe fatto osso duro a quel mestiere quindi non avrebbe retto. E Malpelo soffre molto per questa condizione. Malpelo cerca di spronarlo. A modo suo lo sgrida, lo picchia, ma quando un giorno si accorge picchiandolo sul dorso che Ranocchio sputa del sangue allora effettivamente si rende conto che qualcosa non va. Tant'è che gli dice è meglio che tu crepi presto. Se devi soffrire a quel modo è meglio che tu crepi. Infatti da lì a poco Ranocchio morì. Malpelo allora torna a visitare quel burrone dove vedeva anche l'asino grigio e pensa al suo amico Ranocchio. Come vedete quindi il rapporto d'amicizia tra Ranocchio e Malpelo è un rapporto vero, è un rapporto autentico che però finisce con la morte di Ranocchio. Una nuova morte quindi, una morte che si aggiunge alla perdita del papà, quindi ulteriori traumi che ha Malpelo. Da quel momento arriva poi alla cava un nuovo operaio scappato dalla prigione. Secondo gli operai anche Malpelo è quindi destinato alla galera. Anche lui, d'altra parte, ha i capelli rossi, è rozzo, brutto, cattivo, vendicativo. Anche lui è destinato alla galera. Una volta che cosa succede? C'è un passaggio da esplorare e quindi Malpelo decide di mettersi alla prova nonostante il rischio. Ma che cos'ha ormai lui da perdere? Una famiglia di fatto non ce l'ha. L'unico amico che aveva non ce l'ha più. Suo padre è morto. Decide di mettersi in gioco. Decide di mettersi in gioco, prende gli arnesi di suo padre, il piccone, la zappa, la lanterna, il sacco col pane, il fiasco del vino e se ne va. Non si seppe mai più nulla di lui. Così si persero persino le ossa di Malpelo e i ragazzi della cava abbassano la voce quando parlano di lui nel sotterraneo perché hanno paura di vederselo comparire dinnanzi con i capelli rossi e gli occhiacci grigi. Come vedete abbiamo un finale di fatto aperto. Non sappiamo che fine abbia fatto Malpelo. Forse ancora lì nella cava. Forse è rimasto il suo fantasma. Chi lo sa. Quindi cerchiamo di sintetizzare al meglio. Allora il narratore in questa novella è un narratore esterno. Non è un portavoce dell'autore e a livello dei personaggi. L'incipito infatti della novella si apre con la descrizione di Malpelo tramite la regressione. Il narratore quindi non è ornisciente ma è portavoce di un ambiente primitivo e rozzo e per questo è inattendibile. Molto importante per questa novella è la tecnica dello straniamento. Quindi il punto di vista del narratore non concepisce i sentimenti autentici di Malpelo. Il narratore di fatto è portavoce di una visione disumana del mondo. E l'effetto che scaturisce da questa descrizione fatta dal narratore è proprio l'accettazione da parte nostra di questo punto di vista. Questa novella è una novella di fatto che fotografa un'idea pessimistica quindi un pessimismo di Verga perché la vita secondo Verga è una lotta secondo la legge del più forte. E questo lo vediamo anche dalle stesse considerazioni di Rosso Malpelo che probabilmente rispecchia il punto di vista di Verga che accetta questa realtà e non sa porvi rimedio. Questa novella però è molto importante perché inaugura il modo di narrare del Verga Verista. Rosso Malpelo è un'analisi dura e impietosa delle leggi sociali. Ci vediamo alla prossima video lezione.